Ciao ragazzi, come state? Buonasera a tutti, buongiorno a tutti, come va? Allora, per chi non mi conosce io mi chiamo Emanuele, sono Manu Venditti, il mio canale si chiama Italy Made Easy, voi lo state guardando. Allora ho una confessione per voi ragazzi, cerco di leggere i messaggi ma allora vi spiego che cosa faremo oggi. Spero di non deludervi perché io sono stanchissimo e allora per oggi ho pensato di fare una chiacchierata, quindi non di grammatica per favore, non parliamo di grammatica, io vorrei fare una cosa nuova e cioè parlare in italiano naturale di quello che voi mi chiedete, ma non di grammatica o di italiano, quindi chiedetemi, che ne so, quello che vi pare e io faccio una specie di conversazione e vediamo come funziona. Poi domani o dopodomani tornate a questo video e trovate i sottotitoli e quindi potete usare questo video per shadowing o per comprensione, perché adesso voi lo state guardando dal vivo ma c'è altra gente che lo guarderà registrato o anche voi potete tornare. Allora, come in English? Jasir, in English? No, perché in English? Questa è una lezione per studenti di livello avanzato, quindi parliamo in italiano, no? Allora, ciao a tutti, vediamo chi c'è, Matilda. Ho trovato le due lezioni e penso che siano benissime. Saluti dalla Polonia, ok? Grazie mille, Matilda, le mie lezioni forse sono buonissime, non benissime. Ah, non voglio parlare di grammatica. Detta grammatica, fatemi una domanda, fatemi una domanda e passiamo dieci minuti e io vi parlo in maniera naturale, veloce, ok? Come si parla in Italia? Veloce! Mi dispiace, sono stanco. Allora, chi ha una domanda? Oh Jessica, la prima volta che mi vedi, ciao Jessica, dove abiti Jessica, dove sei? C'è anche Sam, ciao Daniele, spagnolo. Allora, ciao Jasir, ciao a tutti, ciao Federica, c'è anche mia sorella, salutate mia sorella. Allora, fatemi una domanda. Come sono? dove sto? Che cosa ho mangiato oggi? Che cosa ho fatto? Qual è l'ultimo film che ho visto? L'ultima vacanza che ho fatto? Qualunque cosa, basta che non sia di grammatica, perché questo è italiano avanzato o di livello avanzato e vorrei parlare normale, di quello che vi pare. Oh, che cosa pensi di sposare persone da altre culture e paesi? Allora, è interessante, perché io sono la persona più cosmopolita e, come si dice, aperta e interessata alle culture, è tollerante. Nella mia famiglia siamo tutti così, mia sorella che adesso è in chat, il suo compagno è della Tunisia, siamo una famiglia internazionale. Mia nonna quando aveva 80 anni, Fede non aveva 80 anni, si è fidanzata con un venezuelano, quindi siamo una famiglia molto internazionale. Ma in Italia c'è un proverbio che è abbastanza brutto, cioè nel senso, non è razzista ma è molto campanilista, si dice mogli e buoi dei paesi tuoi. Qualcuno lo può scrivere? Mogli e buoi dei paesi tuoi. Significa sostanzialmente che è meglio se sposi le persone del tuo paese, ma non nel senso di Italia, del tuo paese nel senso di Verona, Genova, quindi proprio del tuo paese, della tua città. Vabbè, questa era una cosa così. Ok, Diana, grazie mille, allora vuoi il mio indirizzo e-mail per parlare di lezioni private. Allora, due cose. Puoi andare semplicemente sul mio sito, italymadeeasy.com, c'è una chat e lì puoi comunicare con o con me o con un assistente. Non fate domande in italiano perché se non ci sono io le persone che lavorano per me non parlano italiano, non tutte. La cosa che è che io non ho il tempo di insegnare privatamente a nessuno, ho 22.000 iscritti al canale, non riesco assolutamente a insegnare a nessuno o se vai nei video, nell'archivio, trovi un video dove c'è un servizio premium di accent reduction. Quindi se ti interessa lavorare con me per un'ora, un'ora e mezza, anche due, dipende, per lavorare alla pronuncia e eliminare l'accento, ridurre il tuo accento, allora sono disponibile, ho soltanto dieci posti per ogni mese, quindi gennaio è finito, quindi da domani o quando è che comincia febbraio ho altri dieci posti per fare questo lavoro. Scusa che ho perso tutti i messaggi. Michiel, non so, moglie buoi del paese tuoi, si scrive così, esatto. Qual è il mio libro preferito Sam? Allora, dipende, se parliamo di letteratura, quindi di fiction o comunque sound fiction, di libri di prosa. Uno dei miei libri preferiti è sicuramente Se è una notte d'inverno un viaggiatore, che è di Italo Calvino, quindi Se è una notte d'inverno un viaggiatore, a me piace tantissimo, l'ho letto già molte volte. Per quanto riguarda altri libri, io leggo molto cose tipo, per farti un esempio, che ne so, Anthony Robbins o Tim Ferriss, quindi l'ultimo libro che ho comprato si chiama Tools of Titans di Tim Ferriss. Quali film mi piacciono, Victorian Ghost? Quali film mi piacciono? Allora, non ho molto tempo per guardare film e la verità è che se io guardo un film, 99% è un cartone animato, quindi io guardo cartoni, Disney, Pixar, animazione giapponese, ma guardo praticamente solo cartoni animati. Ok, ciao Sladi dalla Bulgaria. Allora, grazie a voi per le domande. Avevo letto un'altra domanda, aspetta. Allora, Thamespug dice di dove sei, hai un accento della tua regione? No, io sono di Nettuno, che è in provincia di Roma, nel Lazio, la regione Lazio, ma non ho l'accento del Lazio, se tu trovi un video nel mio archivio, c'è un video, language tag, language tag, credo non mi ricordo, dove spiego che io non ho un accento, è abbastanza raro, ma diciamo che il 30% degli italiani cresce con l'italiano come madrelingua e la maggior parte degli italiani cresce con il dialetto. Io sono cresciuto con la lingua italiana, quindi non ho proprio, non ho proprio, come si dice, non mi ricordo più. Comunque no, non ce l'ho l'accento. Se mi impegno posso suggerire che sono di Roma, questo è ovvio. Allora, vediamo, è vero? Allora, altre domande, altre domande. Che cosa penso di italki? Questa mi interessa. Allora, che cosa penso di italki? Dipende come lo usate. Rispondo a questa e poi vado a casa, perché devo ancora cenare. Allora, italki è una buona piattaforma per trovare persone con cui parlare se non vuoi fare scambio di lingue, perché io suggerisco sempre di fare lo scambio, perché è gratis, quindi tipo speaky.com o Tandem, HelloTalk, sono tutte app che vi aiutano a trovare partner e fare scambio. Ma se non avete tempo, italki è una buona opportunità, perché pagate 10 dollari l'ora e trovate qualcuno con cui parlare. Va benissimo per fare conversazione. Io non lo consiglio per imparare una lingua, non l'italiano, ma in generale, perché, come dire, anche se queste persone sono insegnanti su italki, non necessariamente sanno esattamente come insegnare, quindi potreste perdere molto molto tempo per imparare con queste persone, quando il vostro tempo potreste usarlo per parlare con le persone. Ok? Ci sono persone che vanno bloccate oggi, che fanno veramente schifo, io non so perché la gente è così, vabbè. Allora, un attimo, guarda quante persone stupide oggi. Allora, quanti fratelli ho? Io ho soltanto una sorella, ho soltanto una sorella che è in chat adesso con voi. Ok, vi saluto perché è tardi, oggi abbiamo fatto una cosa… una cosa nuova, abbiamo fatto così un po' di… non è proprio conversazione perché… perché l'ho fatta da solo, però voi avete fatto le domande. Ok ragazzi, vi saluto, vi do un bacione e ci vediamo domani, ciao ciao!